ciao benvenuto nel mio canale oggi condividerò per voi un nuovo video non dimenticare di seguirci sui social media iscriviti al nostro canale e metti mi piace al nostro video dove ha condiviso una sua foto mentre indossa un vestito bellissimo e sembra incredibilmente bella quindi è stato davvero affascinante ma aspetta c'è di più oggi jagiz che ha sperimentato uno sviluppo a sorpresa sul set della sua nuova serie ha condiviso i suoi sentimenti con i suoi fan e l'attrice che ha eseguito un grande evento ha condiviso un post meraviglioso e indovina cosa voglio dire il momento in cui oggi si è vestita con uno splendido abito per l'evento è davvero speciale quindi è uscita con il suo outfit ed ecco informazioni su un'altra stella gokberg demirci è tornato in palestra sta colpendo i pesi e facendo i suoi allenamenti come un campione da dove beh preparati tre sisters si sta preparando per la terza stagione della serie è vero torneranno molto presto sui nostri schermi oggi jagiz e forse demirci hanno reso felici i suoi fan scrivendo un post meraviglioso gokberg demirci e oggi jagiz hanno avuto una relazione molto popolare e bella come coppia che ha iniziato a frequentarsi circa quattro anni fa la coppia come molte coppie ha avuto un bellissimo rapporto con il sostegno della famiglia e degli amici in un quadro di amore e rispetto tuttavia è stato rivelato che la coppia ha interrotto la loro relazione dopo che gokberg demirci è stato sorpreso con l'attore nella nuova serie la relazione tra gokberg demirci e oggi jagiz che dura da circa quattro anni è stata sostenuta dalle loro amate famiglie e amici in un bellissimo quadro di amore e rispetto poiché gokberg demirci e oggi jagiz hanno una relazione piena di amore e rispetto sono conosciuti come una coppia molto popolare e ricevono grande sostegno cari follower rimanete sintonizzati per le meravigliose foto dei meravigliosi post di gokberg demirci e oggi jagiz rimanete sintonizzati